Allora grazie a Alfredo Giglio Bianco per questa presentazione calorosa e sentita e grazie a voi per essere venuti a sentire le cose che io molto modestamente mi appresto a dire su i temi del titolo di questa conferenza o lezione o seminario. E si può esordire citando un vecchio paragone che è stato fatto la prima volta da Tucidide e l'ultimo che conosco da James Tobin tra la moneta e il linguaggio che hanno funzioni simili perché tutte e due servono, aiutano a scambiare, aiutano il contatto e lo scambio tra persone e persone. Allo scopo di comunicare oppure di avere dei rapporti di vario genere economico ma anche di comunicare per quel che riguarda la moneta perché la moneta ha anche una sua funzione di messaggio. Siccome passa di mano in mano subito coloro che governano hanno capito l'importanza di averci per esempio la loro immagine oppure un'immagine che sia evocativa di qualche particolare sentimento oppure di qualche particolare istituzione che si vuol ricordare al pubblico più disparato. Come il linguaggio la moneta può avere una quantità di ambiti cioè può essere divisa. Ci possono essere tante monete come ci sono tante lingue. Naturalmente ci potrebbe essere sia una lingua universale che una moneta universale e guarda un po' sono state tutte e due auspicate e anche perseguite nel passato e in qualche modo realizzate anche in maniera diciamo ersatz. Se non si ha una vera moneta universale, un vero linguaggio universale cosa abbiamo? Abbiamo che si diffonde una moneta di uno stato in un ambito territoriale molto grande, viene adoperata da ogni sorta di gente e si diffonde una lingua allo stesso modo. E noi abbiamo, viviamo al tempo dell'inglese, del dollaro prima della sterlina. Prima di questo per esempio c'è stata la romanizzazione dell'Europa che è stata sia linguistica che monetaria, oltre che politica. Quindi i casi di linguaggio a moneta sono paragoni che funzionano. Perché lo dico? Perché un'altra cosa da tenere a mente è che non ci sono delle differenze molto importanti tra il parlare, trattare argomenti di moneta internazionale e quello di parlare di argomenti di moneta territoriale, interna nazionale. E altra cosa da capire subito è che se visitate questa mostra vedete che la moneta può essere anche partire anche in maniera assai poco materiale. Per esempio c'è una gigantesca moneta di un'isola molto lontana da noi, che è un simbolo e che addirittura ce ne sono in quel paese alcuni che sono degli scogli. Questi scogli cambiano proprietà, chiaramente non rendono niente, non pagano niente, però sono il simbolo della ricchezza che appartiene a qualche persona e poi quando si compra un oggetto, una casa, qualcosa, passa la proprietà di questo scoglio a qualcun altro. Quindi l'idea che ci sia stata prima una fase materiale della moneta, cioè ci sia stata una progressiva smaterializzazione, non è particolarmente vera. Anzi, la moneta metallica è un caso di materializzazione quando l'ambito degli scambi si allarga e gli scambi si devono fare tra persone che si conoscono poco, tra estranei e quindi c'è bisogno di qualche cosa di materiale metallico e c'è un valore intrinseco. Quando gli scambi si fanno tra persone che si conoscono benissimo e vivono entro un ambito territoriale molto limitato, tutto può essere scritto su un pezzo di carta, un registro comune come succede nell'Egitto dei tempi più o meno della conquista di Roma, dell'Egitto dei Tolomei, oppure in ambiti territoriali molto piccoli tutto si fa a credito e i crediti certe volte non sono nemmeno registrati, sono tenuti a mente, sono degli obblighi perché c'è anche la censura immediata nel caso non siano rispettati. Tutto questo ha una caratteristica di immaterialità molto forte. La materializzazione invece deve avere luogo quando c'è un'espansione degli scambi, gli scambi avvengono in un ambito territoriale molto vasto e tra persone che non si conoscono proprio, non si fidano l'uno dell'altro, non hanno coordinate l'uno dell'altro, e quindi la moneta porta a spasso il valore contenuto in se stessa sotto forma di questi dischetti di metallo. Però l'uso dei metalli come moneta ormai c'è più di 2000 anni e ha funzionato per la gran parte del tempo che abbiamo usato monete sia a livello nazionale che internazionale. Ecco, un'altra considerazione da fare è che fino a quando c'è stata la moneta metallica, le monete di metallo sono quasi sempre di metallo prezioso, ci sono anche casi molto noti come quello di Sparta in cui la moneta è fatta di metallo vile ed è anche enorme perché non debba essere usata, scambiata molto di frequente. Tolte questi esempi che si ricordano su tutti i libri perché sono eccezioni, la presenza di monete di metallo prezioso coincide quasi sempre con gli stessi metalli che sono l'oro e l'argento, ma in una parte del mondo come l'Europa che ha smesso di produrre grandi quantità di oro e di argento ben presto, c'è anche il problema del rifornimento di questi due metalli da fuori dell'ambito, da fuori di questi territori e quindi le condizioni di offerta, di produzione di questi metalli sono importanti, rilevanti ed esogeni rispetto ai paesi che le adoperano perché se si scopre una miniera in Asia, in Africa, in Oceania o in America la cosa si svolge al di fuori dell'Europa anche se i proprietari della miniera possono essere benissimo degli europei. Quindi la materializzazione in forma di metalli preziosi che si rileva per lo meno per duemila anni unifica tutti i territori perché con variazioni assai notevoli ma con una omogeneità altrettanto notevole si tende ad operare gli stessi metalli e quindi se le monete metalliche hanno un loro contenuto intrinseco simile a quello di scambio, quello facciale e allora questo vuol dire che possono essere adoperate ovunque quindi una moneta che è emessa da uno stato, da un re, può essere adoperata in un paese molto lontano dal suo perché contiene una quantità non indifferente e di solito conosciuta di questi metalli che sono riconosciuti come preziosi nella gran parte di questi ambiti. Naturalmente ci sono anche luoghi dove il metallo oro ha un valore relativo assai maggiore del metallo argento e viceversa ma si viaggia sempre entro questi ambiti e allora per un periodo appunto di quasi duemila anni abbiamo che la moneta è un fenomeno internazionale, le monete costruite da qualche parte si possono adoperare in qualsiasi altra parte perché si sa cosa contengono o perlomeno c'è un marchio di fabbrica è quello del regla EMS, del governo EMS che dice più o meno quanto contenuto c'è di metallo prezioso e la nazionalizzazione dei sistemi monetari, la territorializzazione dei sistemi monetari avviene molto dopo avviene diciamo nell'ottocento che è un secolo rivoluzionario per una quantità di motivi compreso questo perché insieme al salire degli stati nazionali il diffondersi del concetto e della pratica dello Stato nazionale, la costruzione dello Stato nazionale abbiamo anche la territorializzazione delle monete perché c'è un elemento che io non vi ho ancora detto quello che riguarda le monete sempre di metallo, ma di metallo vile che vale poco che sono adoperate tradizionalmente nella gran parte dei casi per far realizzare gli scambi di valore minuto di entità piccola perché la divisibilità delle monete d'argento e di quelle d'oro trova dei limiti ai tempi di Aristofane le monete d'argento di Atene come lui racconta in una delle sue commedie erano sottili come le scaglie di un pesce piuttosto vile che si chiama Muggine e quindi si portavano sotto la lingua come non morissero questi Atenesi io non ho mai capito e come facessero a parlare essendo un popolo molto loquace avendo il proprio tesoro sotto la lingua non si sa però c'è scritto in Aristofano e poi su tutti i libri di monete di storia della moneta che così facevano si portavano in giro perché? perché erano ridotte delle cose esilissime quindi queste rappresentavano ancora dei valori elevati uno perdeva il tempo a portarsela appresso sotto la lingua ma quando doveva scambiare cose di poco valore doveva ricorrere a una moneta diciamo divisionaria le famose monete nere fatte di metallo vile e questo ambito rimane non particolarmente ben regolato da leggi per un lunghissimo periodo fino appunto all'ottocento quando per il progresso tecnico si può venire far risolvere un problema gravissimo che è quello del costo di produzione e delle quantità prodotte delle monete quando si mettono insieme la meccanica e il vapore la forza motrice del vapore un inglese chiamato Bolton riesce a costruire un maglio appunto a vapore che riesce a produrre delle quantità indefinite di monete e allora si risolve il problema del fatto che fare una moneta di poco valore fare una moneta di grande valore in termini di mano d'opera era la stessa cosa prima e quindi costava molto per cui le monete a scarso valore intrinseco a nessun valore intrinseco non c'era nessuno che le volesse veramente produrre e rimaneva il problema di farle produrre si producevano privatamente si producevano da parte delle comunità locali e il loro collegamento il collegamento di questa enorme massa che dopo tutto serviva ai bisogni di scambio di mezzo di scambio di un'enorme parte della popolazione quella più povera non era veramente regolata dallo Stato adesso invece con questa innovazione tecnica diventa possibile e da quel momento si può veramente costruire un sistema monetario nazionale che vada dalla moneta più basso valore a quella più alto valore con dei rapporti di scambio precisi tra di loro e qui stiamo ancora parlando di monete di metallo questa è una novità importantissima che si realizza proprio più o meno nel periodo in cui si realizza l'unificazione italiana un po' prima un po' dopo a seconda dei paesi ma alla costruzione di un sistema monetario nazionale si dedicano tutte o quasi tutte le autorità nazionali e a quel momento viene pure a essere messa in dubbio la utilità di far che circolino in un paese le monete di un altro paese mentre prima questo era considerato un vantaggio perché essendo costose da produrre queste monete potevano andare dovunque ci andavano spesso seguendo delle possibilità di arbitraggio cioè costi relativi e cioè valutazioni relative superiori o inferiori in paesi tra loro vicini o lontani l'arbitraggio monetario è qualcosa che si pratica per centinaia di anni ma perché perché essenzialmente fino a quando siamo rimasti nell'ambito della moneta merce della moneta fatta di beni preziosi di metalli preziosi come dice Cipoll c'è stata una deflazione strutturale monetaria in tutto l'Occidente l'Occidente non ha metalli preziosi quindi la moneta è scarsa rispetto alle possibilità di espansione della alla dinamica della economia della economia reale e questo è un problema che si risolve in parte rubando le monete l'una agli altri cioè gli stati e i cittadini degli stati se le sottraggono a vicenda e quando c'è l'unificazione monetaria italiana per esempio si trova che una quantità di monete straniere in circolazione in tutti gli stati preunitari è molto grande e questa deve essere scartata vengono eliminate dicono che due terzi della circolazione monetaria negli Stati Uniti per un periodo molto lungo fosse costituito da monete straniere o da monete false e tutte e due andavano alla grande perché risolvevano questo problema che Cipolla ha sottolineato insieme al problema che lui chiama il grande problema della moneta piccola che è quello che vi ho detto prima tutte e due questi problemi vengono risolti nell'Ottocento con la nazionalizzazione dei sistemi monetari e subito dopo che si riesce a costruire finalmente un sistema monetario con delle regole comuni a tutti gli ambiti monetari e a regolare l'offerta di tutti i tipi di monete da parte di uno Stato solo dell'autorità centrale dello Stato ci si comincia subito a preoccupare delle influenze che vengono da fuori cioè questa nuova costruzione è efficiente ma può essere resa inefficiente da eventi e da fattori esogeni come per esempio il permanere il persistere del cambiamento delle condizioni di offerta dei metalli oro-argento e rame anche perché con questo sistema di Bolton si possono fare delle bellissime monete di rame che valgono poco ma che possono essere utilizzate in grande quantità e allora questi tre metalli non sono prodotti veramente in Europa e continuano a venire da fuori e le condizioni di offerta continuano ad essere da fuori dei paesi europei però hanno forte influenza sugli eventi monetari interni dei vari paesi europei e la costituzione dei sistemi monetari nazionali è appena avvenuta è una specie di portato della civiltà industriale dell'ottocento della modernizzazione e viene messa in pericolo da questi eventi esogeni così che gli stati cominciano a preoccuparsene a vedere se li possono affrontare questi problemi o da soli oppure insieme e in effetti fino a quando si vuole come si è voluto da parte della rivoluzione francese costituire un sistema cosiddetto bimetallico con tassi di cambio fissi tra le monete argente e quelle d'oro e questo in particolare modo di organizzare una costituzione monetaria è difficile da mantenere da far vigere per un lungo tempo perché appunto le condizioni di offerta cambiano così spesso e in maniera poco prevedibile pure e allora questa che è una politica monetaria attiva rispetto a quella che invece non si preoccupa dei tassi di cambio fissi tra le varie monete dei vari metalli viene scelta dai francesi viene esportata dalle armate di Napoleone rimane in una quantità abbastanza notevole di questi paesi occupati poi che si ritirano che finisce l'Europa napoleonica e si riesce a tenerla in piedi pur se un paese seguito da pochi altri cioè l'Inghilterra decide invece di dedicarsi di mettere il proprio sistema monetario su un piede di un solo metallo e questo è il famoso gold standard il sistema aureo che gli inglesi hanno adottato alcuni dicono in maniera absent minded cioè volendo fare un'altra cosa sono ritrovati a fare il sistema aureo mentre all'inizio avevano detto a Newton che era il maestro di zecca a cui era stato dato il compito di pissare i valori delle monete inglesi erano state date altre direttive e poi è andato a finire che il sistema si è ritrovato su un piede esclusivo d'oro ma dall'altra parte della manica e in un certo numero di paesi continentali invece ci si dedica a cercare di tenere fermi i tassi di cambio tra ore e argento tra moneta d'oro e argento e questa è una politica monetaria molto attiva da parte dei governi e che diventa difficile quando non ci sono solo delle variazioni che ci sono sempre state e che sempre hanno portato guai tra i prezzi relativi dei due metalli principali ma in particolare uno comincia a guadagnare o a perdere rispetto all'altro in maniera sensibile questo avviene prima per l'oro con le scoperte delle miniere in California attorno alla metà del secolo dell'ottocento e poi comincia a succedere invece in maniera molto più sensibile con l'argento a partire nel corso degli anni settanta pure dell'ottocento con una motivazione doppia una del progresso tecnico cioè che le miniere d'argento possono essere sfruttate meglio con dei sistemi che si inventano i metodi di sfruttamento che si inventano in quel periodo e poi perché l'unificazione monetaria tedesca avviene imitando l'Inghilterra quando la Prussia vince sulla Francia la guerra del settanta l'indennità che viene data dai francesi ai tedeschi per farli arretrare un miglio ogni tanti soldi molto pratico verso la Germania la Germania essendo lontana da Parigi erano molte miglie molti soldi a questo punto viene adoperata per creare un sistema monetario basato sull'oro naturalmente poi accadrà che vorranno fare anche una moneta d'oro non solo metterlo come base del sistema e farci delle banconote o delle monete argento legate a un legame fisso ma vogliono fare una circolazione aurea ce l'hanno gli inglesi ce l'abbiamo anche noi succede allora che gli crolla il prezzo dell'argento l'argento loro lo devono avere perché quello che devono sostituire con l'oro e si trovano a fare un affare pessimo e smettono a un certo punto questo cambiamento monetario a un certo punto si ferma e siccome tutto il sistema era partito grazie all'indennità di guerra pagata dai francesi bismarck si dice abbia detto la prossima volta gliela paghiamo noi a loro l'indennità perché può darsi che le cose fatano meglio a questo modo perché quando hanno pagato loro a noi è andato a finire malissimo quindi questo dei problemi legati alle innovazioni ai cambiamenti tecnologici e anche alle grandi scoperte minerarie e grandi cambiamenti istituzionali del secolo XIX comportano una ribollire di teorie di posizioni diverse di politiche che hanno tutte da confrontarsi con questa situazione veramente molto diversa di quella precedente ci si confronta con cose che prima non c'erano questi confini monetari nazionali queste monete nazionali organizzate a sistema questa non accettazione delle monete straniere che prima circolavano regolarmente questo problema nuovissimo del crollo dell'argento perché le diminuzioni ce l'hanno sempre state ma qui veramente abbiamo che l'argento quasi non diventa non è più un metallo prezioso a un certo punto che poi quando si comincia ad abbandonarlo lo abbandonano tutti per modo di dire cioè le coniezioni l'argento vengono bloccate e anche i paesi bimetallici diventano caratterizzati da quello che si chiamerà il bimetallismo zoppo perché appunto l'argento non è più coniato rispettato viene ancora considerato come moneta legale però non è più coniato quindi tutte queste questo rimbollire di avvenimenti comporta alla fine appunto verso la fine dell'ottocento una polarizzazione una polarizzazione verso il sistema aureo sistema aureo che passa da essere praticato solo dagli inglesi a invece essere preso il sistema legale di una quantità di altri paesi e diventa una corsa verso la fine dell'ottocento molti paesi che avevano aspettato decidono di fare il passo anche loro perché lo fanno perché questo innanzitutto determina una universalizzazione se volete di uno standard monetario unilaterale non c'è bisogno di trattati mentre invece per stabilire il bimetallismo bisognava internazionale bisognava mettersi d'accordo fare trattati infatti si fece l'unione monetaria latina fu il più celebre di questi nel 1865 e quindi c'è un'attività proprio di governo di governi di collaborazione internazionale c'è anche un tentativo addirittura di fare una moneta universale nel 1867 più o meno come l'esperanto dal punto di vista delle lingue che però finisce viene fatta ma poi non si fa non si attua come l'unione politica italo-francese nel 1949 che è stata decretata poi ognuno se ne è tornato a casa e non se ne è sentito più parlare però è stata fatta ci sono degli avvenimenti internazionali ogni tanto che hanno queste caratteristiche ci si incontra e si fanno giuramenti di fedeltà per sempre poi ognuno se ne torna a casa e non se ne parla più perché le condizioni cambiano immediatamente quindi non non serve a niente ora la bellezza del gold standard internazionale è che ognuno se lo decide da sé non c'è bisogno di mettersi d'accordo con nessuno si fa su una bella legge che dice che il sistema monetario nazionale è messo su un piede di su un piede aureo il che vuol dire che c'è un rapporto fisso tra la riserva d'oro della emittente le banconote e le banconote stesse non si può sgarrare tanto oro si ha in cassa tante banconote si possono emettere se l'oro in cassa diminuisce si diminuisce il valore delle banconote si aumenta si aumenta questa è la regola del gold standard ognuno se la stabilisce per conto suo con il proprio parlamento con il proprio governo con il proprio sovrano e alla fine ci troviamo con un sistema di cambi fissi che vale per tutto per una quantità di paesi del mondo molto elevata e che si è realizzata senza accordi internazionali naturalmente non è perfetta naturalmente accade che poi questa una regola così stretta sia difficile da rispettare allora ci sono delle modulazioni della stessa regola e però è un interessante fenomeno quello di uniformare qualcosa con decisioni unilaterali e basta che però ha effetti a livello diciamo di una quantità molto notevole di paesi ma perché proprio l'oro perché probabilmente la sterlina è diventato è diventato la moneta più importante del mondo l'Inghilterra è diventato il paese esportatore di capitali per eccellenza nel periodo ultimo prima della prima guerra mondiale gli inglesi riescono a costituire uno stock di capitali all'estero che gli rendono investimenti esteri che gli rendono con questi rendimenti si fanno ulteriori investimenti e a tassi cioè di importo rispetto al prodotto nazionale inglese che non si vedrà mai più in un suo paese del mondo queste cose che si dicono della Cina fanno ridere al confronto di quelli che hanno combinato gli inglesi in quel periodo con i loro capitali e con lo stock che avevano costituito quindi tutti vogliono mettersi in condizioni di attirare questi capitali inglesi e quindi come si fa? si fa adottando lo stesso standard che ha monetario che ha l'Inghilterra perché in quel modo il capitalista inglese investe non so in Italia e sa che se vuole ritirare i propri soldi li riterrerà un tasso di cambio uguale a quello a cui l'ha investito non c'è un rischio di cambio se l'Italia ha aderito anche lei al call standard quindi si facilitano questi investimenti si cercano di attirare perché? perché servono la modernizzazione di tutti questi paesi europei e di altri paesi in altre parti del mondo che hanno deciso di passare a un sistema diciamo economico e anche politico moderno quindi si dedicano a grandi costruzioni di infrastrutture opere pubbliche che richiedono grandi capitali e anche alla costruzione di un'industria che però fornisce essenzialmente il mercato interno quindi fornendo il mercato interno gli interessi per la competitività basata sul tasso di cambio non rilevano uno importa macchine per costruire determinati oggetti su scala industriale le importa probabilmente dall'Inghilterra dall'Inghilterra e dalla Germania in seguito anche dalla Francia poi si dedica alla costruzione di queste merci industriali e le vende ai propri cittadini quindi le esportazioni non sono in questo momento di questi prodotti non sono in questo momento rilevanti e per questo la cosa rilevante invece è l'arrivo dei capitali inglesi gli inglesi naturalmente favoriscono questo stato di cose perché loro hanno questo surplus di capitali da esportare perché loro hanno finito la fase della grande costruzione di infrastrutture e strutture industriali quindi hanno meno bisogno di capitali e perciò li esportano e in questo modo riescono a mettere Londra al centro del sistema finanziario internazionale e tale rimane nella situazione fino alla prima guerra mondiale in quel libro che Alfredo Giglio Bianco ha così gentilmente citato io ho anche cercato di far vedere come nei 15 anni prima della prima guerra mondiale più o meno abbiamo una trasformazione di questo sistema monetario verso una instabilità progressiva che dipende dal fatto che più paesi acquistano un livello di industrializzazione simile a quello dell'Inghilterra si mettono a competere sullo stesso piano dell'Inghilterra per quanto riguarda la produzione industriale e in particolare sono due sono la Germania e gli Stati Uniti poi c'è anche la Francia c'è anche l'Italia c'è anche la Russia ci sono l'impero austro-ungarico ognuno con la sua piccola fetta di industrializzazione la Francia magari un po' di più però i veri protagonisti della rincorsa nei confronti dell'Inghilterra sono da una parte l'impero tedesco la Germania uscita dalla unificazione e dalla guerra vittoriosa contro la Francia e gli Stati Uniti che sono la Cina di allora hanno dei tassi di crescita della popolazione assolutamente fantasmagorici perché arrivano immigrati da tutto il mondo e arrivano è la cosa interessante con una quantità di tecnologie in mano cioè sono gente capace non sono persone che non sanno fare niente ci sono anche quelli che vengono messi a scavare le fondazioni dei grattacieli di New York ma oppure a scavare il cavale di Panama e parlo dei nostri concittadini più o meglio o anche quelli di cinesi o anche quelli giapponesi però la gran parte degli immigrati sono proprietari di capacità tecniche notevolissime quindi questo è un paese che parte già sviluppato per modo di dire non ha quasi per niente un periodo di arretratezza tecnologica specialmente per la parte che vince la guerra di secessione cioè il nord est industrializzato sud che praticamente voleva far parte del sistema inglese perde esporta prodotti di piantagione cotone specialmente e quindi avrebbe altri interessi ma ha vinto il nord e il nord quindi si dedica alla industrializzazione e si comporta come paese che compete con l'Inghilterra e il cui destino manifesto è quello di prevalere su tutti gli altri questo si chiama manifest destiny ed è un equivalente del colonialismo praticato dagli americani invece di prendersi la gente si prendevano solo le terre specialmente al Messico l'avanzata verso il Messico equivale all'avanzata della Russia verso l'Asia infatti si svolgono tutti e due allo stesso tempo ma la Russia pur essa svolgendo un'attività di modernizzazione anche di industrializzazione con capitali essenzialmente francesi non riesce però a stare a realizzare un fenomeno così grandioso come quello che si verifica nella Germania unita o negli Stati Uniti quindi questi sono i concorrenti degli Stati Uniti e dell'Inghilterra e in più tutti questi capitali che cominciano a girare con ulteriori innovazioni tecnologiche nel campo delle comunicazioni telegrafo telefono e ogni sorta di altri aggeggi del genere ferrovie che si sono hanno unito l'Europa e uniscono gli altri continenti proprio in questo periodo tutto questo comporta una possibilità di muovere capitali non solo a lungo termine ma anche a breve termine cioè di far spostare anche il denaro di investimento speculativo che si basa su arbitraggi su altre attività di sfruttamento di situazioni relativamente diverse in paesi diversi o in tempi diversi ora la il venire insieme di tutti e due questi fenomeni cioè la concorrenza dei nuovi produttori industriali contro l'Inghilterra e il diffondersi dei movimenti di capitale a breve insieme a delle difficoltà abbastanza notevoli fiscali che l'Inghilterra incontra a partire dagli inizi del novecento a causa della guerra Boer che scassa il sistema fiscale inglese in maniera diciamo irreparabile fa finire il periodo cosiddetto della finanza in pareggio vittoriana tutto questo io sostengo in quel libro fa muovere il mondo in direzione di una instabilità economica e finanziaria crescente resta il fatto però quello che cambia veramente le cose è la grande guerra lo scoppio della prima guerra mondiale che è preceduto da una quantità di guerre guerricciole incidenti diplomatici incidenti frontiera e cose del genere che dimostrano che si sta andando verso la grande guerra ma quando questa esplode e la vince la intesa l'Inghilterra per vincere veramente si dissangue ed è una cosa molto interessante vedere come nel 1918 e dal 1918 in poi viviamo in un mondo completamente diverso sono passati 3-4 anni dal 14 4 anni e non c'è più niente uguale a prima dal punto di vista della situazione monetaria internazionale perché? perché l'Inghilterra non è più in grado di asportare capitale perché? perché si è giocata tutti i capitali investiti in un centinaio d'anni in 50 anni sicuramente vendendo i propri assets cioè i propri investimenti specialmente negli Stati Uniti agli Stati Uniti contro forniture belliche dirette contro forniture di materie prime contro prestiti accesi con gli americani la cosa assolutamente fantastica che io amo citare perché credo non sia successo mai in altro paese è che tutti questi investimenti erano investimenti privati il governo inglese ha fatto sapere durante la guerra che avrebbe gradito che questi investimenti i titoli di questi investimenti fossero portati dai loro proprietari al governo che li avrebbe cambiati i titoli di Stato inglesi e questo è stato fatto da tutti senza obbligo per nessuno era gradito ma nessuno aveva detto c'è una legge che deve rispettare il penne di morte niente è successo è stato un patriottismo in Inghilterra in quel periodo che veramente non credo si sia visto da nessun'altra parte né prima né dopo né lì né altrove e questo però ha determinato la fine della struttura del mondo come era prima dal punto di vista economico e finanziario specialmente finanziario quindi dopo la prima guerra mondiale troviamo che gli Stati Uniti emergono come il paese che è veramente il più grande e importante paese economicamente e finanziariamente del mondo paese creditore da tutti i punti di vista creditore in termini di esportazione di merci creditore in termini di esportazione di capitale creditore per la parte agricola dell'esportazione creditore per la parte industriale dell'esportazione quindi è un paese che non rassomiglia a nessun altro né prima né dopo forse un pochino all'Inghilterra dell'inizio dell'età dell'oro dopo la sconfitta di Napoleone ma l'Inghilterra a quel tempo già importava prodotti agricoli la fase dell'esportazione della grande rivoluzione agraria inglese era già finita quindi non è proprio la stessa cosa e c'è un'accumulazione rapidissima da parte di tutti i paesi vincitori che hanno preso a prestito dagli Stati Uniti avendo dovuto importare dagli Stati Uniti prodotti agricoli specialmente prodotti industriali e gli Stati Uniti sono preoccupatissimi che il ritorno alla situazione di pace smorsi queste possibilità di esportazioni alle quali si sono abituati perché l'industria americana ormai ha imparato l'industria specialmente l'agricoltura americana ha imparato a vivere di esportazione e sa che quando tornano i contadini dal fronte si rimettono a produrre nei paesi che erano in guerra e ricomincia l'autarchia produttiva per modo di dire non hanno più bisogno di loro e allora non sono disposti ad accettare una rivalutazione del dollaro che tenga conto di questa mutata situazione in più non sono assolutamente disposti a condonare nessun tipo di credito a nessuno perché come disse il presidente Coolidge a proposito dei debiti inglesi hanno preso a prestito e adesso devono ridare the hard money didn't they come dice avete fatto i debiti adesso pagate normalmente così si fa l'idea che si può fare diversamente viene ventilata dai debitori ma tra i creditori quasi nessuno la accetta e ci vorrà un'altra guerra mondiale e la vittoria totale del dollaro come prima moneta del mondo per far capire agli americani anche perché si manifesta all'orizzonte molto praticamente molto realisticamente la minaccia del comunismo internazionale e l'espansione dell'impero sovietico cosa che si era vista anche nel 1917 con la grande rivoluzione e c'è qualche storico che ha detto che da lì parte una serie di azioni americane anglo-americane molto rilevanti però quello che succede succede veramente dopo la seconda guerra mondiale e allora cambierà tutto l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dei crediti che anche quella volta hanno accumulato nel periodo tra le due guerre invece questo non è un problema che non si risolve allora si cerca di tornare al gold standard si fanno tentativi diciamo coordinati questa volta di ritorno al gold standard che è diverso da prima prima ognuno la deriva per conto suo adesso invece si fa veramente una specie di coda di come si deve tornare al gold standard perché? perché l'oro non c'è da questa parte del mondo in Europa dall'Europa loro è emigrato negli Stati Uniti quindi si deve fare il gold standard ma si deve fare senza oro e allora si inventa il sistema del cambio aureo per economizzare l'oro e in più il governatore della banca di Inghilterra fa una specie di piano che non viene realizzato secondo il quale si fa si mette in piedi un sistema di stabilizzazione un paese dopo l'altro adoperando sempre lo stesso oro che si prestano uno dopo l'altro fa il giro di tutti i paesi ristabilizza tutte le monete e poi se ne torna a casa per modo di dire gli americani che hanno tutto l'oro del mondo non sono d'accordo non vogliono il sistema del gold exchange standard vogliono il sistema aureo e dove possono lo impongono impongono consigliano ci sono alcuni consiglieri economici americani che vanno in giro per i paesi predicando il gold standard puro e in particolare riescono per una serie di motivi strani a convincere il Sud Africa il più grande produttore di oro del mondo a non rimettersi uno sistema basato sulla sterlina ma andare direttamente sull'oro e a questo punto gli inglesi perdono tutta la loro fornitura semi diciamo concessionaria di oro e devono mettersi in condizioni completamente diverse devono cambiare modello modello lo cambiano prima degli altri infatti prima di tutti riportano la sterlina al gold standard e prima di tutti se ne vanno svalutano la sterlina e questo nel 31 settembre nel 31 viene a cambiare le carte in tavola completamente inaugura una quindicennio di storie terribili per l'Europa e per il mondo che partono dalla segmentazione dei mercati il collasso del commercio internazionale le autarchie diffuse che adesso si dice che andavano bene perché stimolavano la ricerca scientifica la nutella è un prodotto dell'autarchia italiana quindi non tutto il mare viene per moccere perché si fa con le nocciole invece che col cioccolato però insomma non è il cioccolato e per il resto finiamo come si sa con un'altra guerra e da questa guerra veramente emergono gli Stati Uniti come la superpotenza che si fabbrica un'altra sua superpotenza immagine e somiglianza cioè il nemico cioè la Russia sovietica che non è per niente nella stessa catena non è in serie A non è nemmeno in serie B ma si dice che lo è e lei ci crede perché dal punto di vista della produzione di armamenti ce la fa a reggere un po' la concorrenza ma è un nemico abbastanza improbabile quello che è vero è che invece gli Stati Uniti sono il paese senza pari cioè che ha tutto quello che aveva alla fine della prima guerra mondiale e qualcosa di più e quindi può dettare le regole della ricostruzione monetaria mentre dopo la prima guerra mondiale c'era ancora questa attività inglese molto forte che impediva o aveva una sua personalità anche i francesi lavoravano si sentivano grande potenza questa volta invece i tedeschi sono fuori gioco i giapponesi sono fuori gioco gli italiani sono fuori gioco i francesi non hanno una lira e un franco e gli inglesi sono ridotti anche loro in condizioni estremamente veramente penose si mettono d'accordo con gli americani per uscire dal ruolo di grande potenza a un certo punto l'accordo militare anglo-americano la marina inglese aveva talmente tante navi che si accorda per demolirne mille mille navi da guerra che gliene lasciavano un'altra mille figuratevi che razze di marina avevano questi come facevano a battere non potevano chiaramente rimane quindi solo il paese guida la prima volta che succede molto di più chiaramente che i tempi della supremazia inglese perché il governo americano è retto da avvocati e gli avvocati credono nelle leggi credono nei trattati credono nelle regole scritte infatti per la prima volta abbiamo un sistema il sistema di Bretton Woods monetario internazionale stabilito con regole giuridiche con un impianto giuridico e che rappresenta le necessità e i desideri della potenza egemone in maniera determinata forte chiaro e scritta non è una cosa di understatement di così le cose stanno così anche se non lo diciamo come era stato il caso del governo all'inglese e invece qui abbiamo delle regole scritte che sono regole però che tengono conto del fatto che il nuovo modo di gestire l'economia che è uscito da due guerre mondiali non è per niente simile al liberismo economico che forse da qualche parte in qualche momento del mondo si è verificato qui abbiamo invece un sistema dirigistico perché negli Stati Uniti ha prevalso il New Deal il New Deal crede nell'economia diretta l'economia diretta è quello che sta alla base del nuovo ordine economico e monetario internazionale quindi si tratta di un ordine monetario internazionale economico internazionale dirigistico organizzato dai governi ed è fatto apposta per evitare c'è scritto che si verifichino quegli eventi negativi come può essere come possono essere i grandi movimenti di capitale internazionale a breve termine che hanno squassato l'economia mondiale tra le due guerre combinando una quantità di guai che devono essere esorcizzati quindi i governi gestiscono l'economia internazionale il liberismo succede dopo si cerca di tornarci di andarci dopo ma in questo periodo che dura fino al 1971 i governi sono in prima fila e in prima fila tra tutti i governi c'è il governo degli Stati Uniti che ha delle proprie strategie da proporre per massimizzare la liberalizzazione degli scambi commerciali a costo di bloccare o di reprimere i movimenti di capitale quindi l'idea è quella di far ripartire l'economia internazionale facendo risalire il ritmo degli scambi commerciali internazionali perché gli americani sanno di nuovo di avere una economia in surpo strutturale e per un lungo periodo questo rimarrà vero e perciò hanno necessità di massimizzare gli scambi internazionali in più credono che con gli scambi internazionali liberi si possa anche convincere i paesi ex protezionisti cioè essenzialmente quelli che hanno perso la guerra ma anche l'Inghilterra che è diventato un paese dirigista e protezionista e anche la Francia che è sempre stato e poi è tornato particolarmente ad esserlo a liberalizzare gli scambi di merci e questo a loro interesse riprodurre una economia di scambi internazionale vigorosa come quella che c'era prima della prima guerra mondiale e a questo scopo devono creare una situazione nella quale le condizioni di competitività dei paesi che devono esportare siano migliorate siano favorite e quindi per esempio si stabiliscono dei tassi di cambio per questi paesi che sono bassi che permettano alle esportazioni di realizzarsi e questo è interessante perché tra gli industriali europei perché qua di Europa è un po' Giappone stiamo parlando questo non è per niente un'idea che trova molti aderenti gli industriali europei si sono si sono abituati al protezionismo al piede di casa agli scambi regolamentati la liberalizzazione degli scambi non gli piace quasi per niente quindi creare il ceto degli esportatori è un fatto è un un'attività alla quale si dedicano gli americani e ci riescono e convincono alla fine una buona parte di industriali europei a marciare sotto le bandiere dell'esportare a tutti i costi ma perché? perché i cambi sono stati fissati a tassi molto sacrificati cioè molto bassi addirittura alcuni dicevano punitivi nei confronti dei paesi a cui sono stati più o meno imposti e il sistema monetario internazionale ha ancora un legame con l'oro ma il legame con l'oro riguarda quasi esclusivamente gli Stati Uniti perché il dollaro è legato all'oro e poi tutte le altre monete sono legate al dollaro e in più il sistema è a cambi fissi però si può anche cambiare ma lo si deve fare discutendone all'interno del fondo monetario internazionale che è una delle istituzioni di governo dell'economia internazionale creata imposta agli Stati Uniti e questa di nuovo è una novità perché c'era stata la società delle nazioni però contava abbastanza poco mentre queste istituzioni sono messe al centro del sistema questo è un sistema che si funziona si mette a funzionare ma specialmente perché gli americani abbandonano l'idea che i debiti degli altri debbano essere ripagati e glieli condonano con questa gigantesca operazione che è il piano Marshall che veramente ha avuto una funzione sia reale che psicologica fortissima per i paesi che lo hanno ricevuto perché era un cambiamento veramente non di 360 gradi come dicono alcuni ma solo di 180 che che porta rispetto al prima rispetto agli anni 30 rispetto anche al 1918 a tutto il periodo precedente non si era mai vista prima una cosa del genere quindi specialmente per questa decisione americana di fornire aiuti per fermare la strada del comunismo l'avanzata del comunismo questa è la vera motivazione lo dicono non è che lo fanno sapere sotto sotto lo dicono chiaramente il comunismo si fonda sulla fame si fonda sulle condizioni di indigenza che prevalgono in Europa noi facciamo tornare l'Europa all'abbondanza e i comunisti perderanno le elezioni da questo deriva per esempio la famosa lite del 1947 48 tra italiani e americani sulla gestione degli aiuti stessi americani perché gli italiani volevano prendere i soldi e metterli come riserve invece gli americani dicevano perché dovete investire se non investite arrivano i comunisti quindi questo discorso è estremamente politico strategico e comporta anche la difesa dell'Occidente cioè delle spese politico strategiche americane all'estero enormi così che molto velocemente si passa da quello che si chiamava il dollar gap cioè dal fatto che non si trovavano dollari assolutamente deficit strutturale di dollari in tutta l'Europa al dollar glut cioè che ce ne sono troppi e questo avviene nel corso di meno di dieci anni una decina d'anni ora la situazione quindi cambia radicalmente tra Europa e Stati Uniti in un periodo brevissimo periodo brevissimo che rimette in discussione tutto quello che è stato deciso negli anni dell'immediato dopoguerra quando gli europei tornano in grandissima forma con la formula a loro obbligata degli Stati Uniti cioè esportare a tutti i costi creare una delle economie basate sulle trainate dalle esportazioni e ci riescono molto bene tant'è vero che appunto già nel 1960 si comincia a invertire i ruoli gli europei accusano gli americani di spendere troppo accusano gli americani di avere una bilancia dei pagamenti in deficit di creare di esportare l'inflazione mentre prima dovevano ringraziare Dio che questi gli davano dei mezzi per sopravvivere in un tempo velocissimo si mettono a predicare agli americani e predicano altro che i cinesi i cinesi oggi stanno zitti rispetto a quello che dicevano gli europei tra il 60 e il 70 hanno accusato gli americani quasi di tutto quando sono arrivati i giapponesi hanno pure cominciato a dire che l'America è un paese criminale in cui uno non viaggia per le strade senza essere assaltato mentre il Giappone uno può girare con le chiavi di casa buttate per la strada e nessuno si ruba niente queste amenità che i cinesi si sognano nemmeno si sognano di dire per il momento ora il discorso della trasformazione strutturale della situazione economica mondiale è così veloce che prende di sorpresa gli americani gli americani realizzano in ritardo quello che gli sta capitando e in effetti quando lo realizzano e cioè che il dollaro non è più in grado di stare al centro del sistema di un sistema di cambi fissi giocano come avevano fatto gli inglesi giocano d'anticipo sono loro nel 71 a levare a togliere il collegamento l'aggancio del dollaro all'oro non lo fanno fare agli altri non lo fanno non lo decidono insieme agli altri lo decidono unilateralmente e lo decidono per si dice biechi motivi elettorali del presidente Nixon che vuole essere sicuro della rielezione è quasi sicuro ma non vuole che problemi monetari internazionali di bilanci di pagamenti o di dollaro gli vadano a turbare le possibilità di rielezione questo determina una catastrofe monetaria internazionale poco dopo induce direttamente la crisi del petrolio cioè la quadruplicazione dei prezzi del petrolio nel 73 e cioè l'adeguamento dei prezzi che erano fissi al nuovo valore del dollaro e da quel momento entriamo in un regime di cambi fluttuanti contentativi che da quel giorno ad oggi si sono alternati di o predicare veramente i cambi fluttuanti come regola oppure di creare delle zone monetarie unificate che però non comprendono tutto il mondo non c'è la moneta universale c'è una nuova versione dell'unione monetaria latina versione moderna ovviamente che tiene conto specialmente del fatto che ormai la moneta è faccenda di banca e di extra banca e certo non si tratta di dischetti di metallo o di banconote della banca centrale e basta e queste soluzioni che riguardano essenzialmente però l'Europa non riescono a durare a lungo fino a quando si tratta di unioni di cambi cioè di monete che mantengono la loro individualità ma che sono strette da cambi fisici perché fare la calma in un oceano in tempesta che riguarda solo un quadratino è un po' difficile l'oceano in tempesta rimane in tempesta ma gli europei vorrebbero che all'interno delle loro soluzioni di cambi fissi regionali ci sia la calma e questa dura però poi si sfascia come regola possiamo dire che la unità monetaria cioè gli accordi di cambi fissi in Europa vanno bene quando il dollaro è forte e quando le pressioni sulle esportazioni europee non sono forti quando il dollaro è debole invece accade che si vogliamo bloccare beh mi pare che io stavo andando là ma andando là l'ho fatto anche apposta perché parlare dell'euro mi sembra abbastanza difficile perché non so se come spero sia una cosa che va per sempre oppure come diceva il nostro compaesano Giovan Giovan Battista Vico ci sono anche in questo caso i corsi e i ricorsi certo distruggere una moneta unica è molto più difficile che distruggere un accordo di cambio ci sono dei matrimoni fatti in cielo e dei matrimoni fatti così come capita io credo che l'euro sia uno di quelli fatti resistenti perché sfasciarlo è veramente molto difficile perché si è risolto il problema che non si era mai voluto risolvere una sola moneta distruzione di tutte le altre monete una unificazione monetaria vera mentre prima si faceva e si disdiceva si diceva siamo d'accordo però ognuno si manteneva una posizione sulla quale cadere ricadere se è necessario noi ci siamo messi da una parte l'oceano e dall'altra una roccia alla quale non si può aggrapparsi cioè siamo senza una fallback position e quindi o si impara a nuotare o si affoga e credo che noi abbiamo già imparato a nuotare e continueremo a nuotare anche se probabilmente con costi elevati per parecchi di noi perché sulla nostra pelle abbiamo visto che cambiamenti di questo genere non è necessariamente tutto rose e fiori ma temo che ci dovremo restare almeno fino a quando io vivo grazie 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 grazie